In ogni caso forse forse di abbassare un po' il lume della tv se c'entra qualcosa Perché? E via con la sigla! E via con la sigla! Benvenuti in questo video del Signore degli Anelli e la Conquista! Con me c'è Aviano! Come vuoi che ti chiami Aviano? Ava! Si vabbè Ava, ovviamente! Federica Ava! Facciamo la campagna in modalità multigiocatore Ovviamente la campagna dei cattivi perché è più bello fare i cattivi, giusto? Esattamente! Perché il film ci ha abituato all'attore dei buoni Quindi vediamo l'altro by side Dark side of the game Vai! Premi te che tu hai il menù Multigiocatore, schermo condiviso La scesa di Sauri Non si può fare perché? Ovvio perché devi farlo tu! E allora dai indietro! Ancora? Tu hai vinto la campagna con i buoni Ancora indietro? Ancora indietro? Dai sei più scatto! Tu hai vinto la campagna con i buoni, no? E quindi hai sbloccato quella dei cattivi Invece il mio profilo Allora... Leggendario Ovviamente Sì sì no Sceglierivello Montefatto Primo Eeeh va bene Ci sto Basta riuscire a farlo E' da uccidere rapidamente un bersaglio Utilizza frecce, asce o altri attacchi capaci di farlo cadere Va bene Se il tuo personaggio finisce al tappeto Per metterti subito in piedi Eeeh Virgola Caro diario Salto il cielo Ascolto No no il video no no Ok via Mi basta questo Sauron torna in possesso dell'unicone Giustamente Quindi pensa già che abbiamo vinto Cioè Dobbiamo passare 25 male Ma come cacchio fanno a sapere che è 25 Ma tu stai giocando No E' per quello In che senso E' per quello che ti ha chiesto eroico leggendario Porca Io ci sono Sei solo tu Che bordello stia facendo Verocizzazione Mi hai aggiunto Non mi hai aggiunto Non mi hai aggiunto Un errore molto grande Non me lo sei mai aspettato No 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 Rieccoci qua Eh Scusate Pochini problemini Non ti scusa nessuno Sì però così non ti senti No Devi parlare delle levemente Non ti scusa nessuno Cacchio Cacchio Vabbè Lililina Io sono sopra Tu sei sotto Io salto come un idiota Yuhuuu Allora lui è l'esperto della conquista Io sono l'esperto di Butterfly Che è stato copiato Da coloro che hanno fatto la conquista Perchè Non sono molto intelligenti E infatti ne hanno copiato male tra l'altro Però essendo abituato a Butterfly Me la possono copiare Però si dice meglio qui niente Comunque cacchio Non riusciamo a far fuori un guerriero orchetto E perchè stava facendo la parata E lo so ma Eh oh Aspetta è lei incommossa E come si fa la spezza parata Semplicemente Eh Aspetta eh Parano Sarà B Attacco potente Guarda il soffio nero Nelle B Y Tante volte prima Sì ma non mi interessa sinceramente Saruman Inghietto Fai inietto Ok Ok No Sì sì vai Stai zitto Saruman Aiuto Cosa 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 c'è qua Ah Eh sopra c'è nessuno Ah Un momento Ah c'è la bomba c'è la bomba Quale squadra Quale squadra Mi sta andando a nuovo No Vabbè Mi sacrificherò che può rispondere a questa domanda Non è molto impedito Ho preso la maschera Vi sape Beh 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 Bene Cosa me ne frega della maschera Occhio 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 Ma basta questo apparato Occhio 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 Ma colpo Occhio 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 100 Un colpo critico Allora, probabilmente la storia è così. Ovviamente Restrigone è morto nei campi del Perenor e adesso stiamo cercando di riportarne in vita, avendo ripreso la sua maschera e ci serve del sangue che è quello dei nostri stessi alleati, ovvero gli orchetti, per risuscitarne. Questi guerri orchetti mi stanno veramente rompendo perché mi parano anche colpi potenti, quindi mi fa arrabbiare i pali. Sì, ma io sto facendo stifo. Cacchio, sto... Ma... sono Marta, o quasi? Oh... L'ho fatto fuori. Ma tu dove stai guardando? Perché te l'ho fatto fuori quando mi hanno ucciso uno io. Anch'io l'ho fatto uno fuori, io sono setto. Beh, io sono morto, quindi uccidi di fretta. Fai veramente... La mia collera li ha schiantati. Ma sembra Voldemort. Te l'ho detto, mi sembra la voce di Voldemort. Sì? No, non voglio, va bene. Io non lo voglio, penso. Ah, sei un... Tizzi, cattivissimo. Hai mancato la leva. Hai mancato la leva, semplicemente. Destra, veloce. Che fai? Vieni. Non lasciami da solo contro questa... Occhio, occhio al fondo. Mizzica, aiutami. Che cavolo mi ha avvelenato? Io no. No, ovvio, cioè, dovessi avere una fissa. No, io sono. Anche tu. Come facciamo con gli stessi? Vieni. Giuro che adesso questo qua lo sfido. Eh, diciamo che... Rimani un capitano, wow. E comunque, io direi che... Tutti i tasti sono inutili. No, è che non conosciamo. Perché me li para. Mi fa... Mi mandi in bestia. Come fa a pararli? Boh, proviamo poi. Ma neanche un mago. Uuu, stavolta sì. Allora... Con... L'Xbox... LD... LD... Più... Un qualsiasi altro tasto, fai uno. LB! L... B, sì, vabbè, non si capisce niente. LB... Mi stanno menando a sangue, cioè, non so. Vabbè, facciamo fuori sto caporchetto, è quello lo scopo. Cosa fai? N è il mio problema di mio coso... Scariche pile, quasi. Eh, ma... Eh, ma... Eh, ma... Eh, ma... L'ho buttato nel pozzo! Bravo! Ok. Ancora! Time out! Ecco, ragazzi, non si possono fare registrazioni quando ci sono coloro che registrano che sono diventato fatti. Stavi parlando di me? No, anche di me. Ma adesso dobbiamo imparare qualche mostra speciale. Me reparo tutte. Oh, attacco in salto dall'alto. Se fai salto e B, fai una cosa potentissima. Oppure LB e B, fai un'altra posizione. Eh, l'urlo fai. No, l'urlo è quello con la Y, con la B invece. Ah, ok. Fai una specie di salto e attacco. Viviamo. Fidati, lo stavo usando finora. Sono morto! Hai ragione. Sono morto sulla vita. Figo. Poi si casa una volta che lo fai. Eh, guarda, guarda. PUM! 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 Arrivo con un'accetta pronta all'uso. Allora. Alla... È troppo presto, vero? Mi sacrifico io! Scemo. Mi ha lanciato nelle brrrrrrascere. Scemo. Vai dietro. Fai LB. A. Sono morto. Sì. Mi hai salvato. No, sono morto comunque. Fai sicuro. Fai sicuro. Muoviti! Mi ero sacrificato per... Oh no! Sono arrivato! Uccidi lì! Sei il re stregone e non puoi scappare! Mi ha lanciato un'accetta con... R.T. 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 Non so cosa sia T. Giusto. R.T. R.T. Ha senso. Quello sì, però la B. La T non lo so. Oh! Ora abbiamo, se non ricordo male, il mitico Frodo da uccidere. Paolo! I figli che mi fanno benvenuto da... R. e mi stanno venendo da dietro, ma perché non vale? Pera che non si fanno sussistire da dietro la gente? R. R. è un ottimo fatto. E dov'ess... R. 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 Prodo con l'urlo No, io ho fatto quello in shot Not school Not school Seguiamo Frodo Accettone Occhio alle bombe Te l'ho spaventato abbastanza Si, fate scatto Ah, è ancora lì Come fa a corrertici i vostri goni? Non lo so, è dipato Ma sai di qua Aspetta, levati un attimo Ah no, colpicilo una volta E poi lo becco con l'accetta No, togli Beccato con l'accetta Io, anche Uè, è caduto giù di se Nooo È caduto anch'io Prendilo l'anello Frodo è stato sconfitto Abbiamo l'anello Prendi l'anello Ah, ciao anello Eh Prendi l'anello Prendi l'anello Davvero Vittoria E con una sciglia No L'ho presentata ieri L'altro giorno Vittoria Anche di meno Nooo Cioè, se mi meni di meno Si Se ti pioni di più Dio Vabbè dai, ci vediamo Alla prossima campagna Questa